Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un workout brucia grassi dove andremo a coinvolgere tutta la nostra parte del corre. Lavoreremo a 360 gradi, un circuito di 30 secondi di workout e 30 secondi di riposo, quindi fatelo anche insieme a me questo circuito, perché seguirò la lettera passo per passo, ogni esercizio potete starmi dietro. Quindi appoggiate pure il telefonino da qualche parte e seguiamo insieme a questo circuito. Ragazzi, seguite insieme a me gli esercizi. Il primo esercizio che andremo a vedere è la famosa hollow body. Chi non ce la fa lo fa con le mani in giù oppure lo fa in one leg. Mettetemi in posizione. 3, 2, 1, via! Stiamo su in barchetta. Piuttosto che scendere accorcio la leva, quindi come ho detto prima o mani in giù oppure one leg. Stiamo su finché non mi suona l'orologio. Chi non ce la fa mani in giù. Ok, pausa. 30 secondi di pausa. Perché il prossimo esercizio che faremo sarà il plank dinamico, che è questo qua. Uno, due, tre, quattro. Questo qua. 3. Quando suona l'orologio parto. Ok. Ok. Ok, pausa. Il prossimo esercizio che faremo sarà side plank dinamico. Quindi ci metteremo in questa posizione. Faremo su e giù, su e giù. Così. Quindi mi riposo un attimo. Intanto come sta andando? Come vi sentite? Il telefono, lo schermo è bene appoggiato. Tenetevi bello stabile. Seguite con me gli esercizi. Andiamo a ritmo insieme. 3, 2, 1, via. Chi non ce la fa può appoggiare la mano qua per terra, così. Come aiuto. Ok. Pausa. Adesso, prima di passare all'altro lato, facciamo prima archbody di mezzo. Che cos'è archbody? È Superman. Il famoso Superman. Così. O se no, mani indietro. Che è più facile. O se no, mani indietro. Ma il dietro chi non ce la fa? Ok, pausa. Adesso facciamo l'altro lato di side plank dinamico. Quindi riposiamoci un po'. Ok, vado. Ok, vado. Pausa. E per finire l'ultimo esercizio. Abs twist. Quindi ci metteremo così. E andiamo a destra e poi a sinistra. Così. Alternando. Via. Allora. Ok. 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 ok e da qui faccio un minuto di pausa e ripeto di nuovo il circuito facciamo due giri così direi che è ora di ricoverarmi